Ciao a tutti sono Bounce777 e benvenuti in questo quinto video di questa serie che durerà per tutta questa settimana ovvero 7 pack opening 1 al giorno come sempre vi ricordo di scrivere qua sotto una domanda che userò per un few time che farò più avanti io estrarrò uno a caso tra tutte le domande fatte e colui che verrà estratto vincerà la miglior carta che io troverò in questi 7 pack opening per ora la carta migliore è Jonathan Soriano in forma però adesso andiamo ad aprire 100.000 crediti in queste bustine qua da 7500 e iniziamo Taccarrapat Poppolunga Polipi mmm sbagliato ancora ah anche l'altra volta avevo sbagliato Oscar ancora quello tarocco terzo pacchetto Carlos Eduardo Spice Fletcher Mollo ma che mollo vediamo ora Steckelenburg che è andato al Fulham Gabbiadini Enzdad e basta vediamo ora qui cosa c'è abbiamo Fabio eeeh e ancora niente mmm stanno andando male niente ancora sono 13 quali che aprirò abbiamo Barclay dal muso si abbiamo Barclay eeeh e basta Sapunaru quattro ultimo pacchetto di oggi qui abbiamo Sirigu 84 dovrebbe essere il miglior giocatore che abbiamo trovato oggi eeeh Giulio Battista e basta dai 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 ancora niente non ci siamo non ci siamo dodicesimo e comunque io vi avevo già detto nel vlog che sto facendo questi 7 back opening perché comunque ci vuole poco non credo di dire una cosa che non si sa ci vuole poco sia a registrare i back opening che a montare e fare tutto zonzi zonzi popo eeeh e quindi faccio questi perché non riesco a fare altri video perché ci metterai troppo tempo e non riuscirei a farli uscire in tempo no un altro fellaini no no l'ho tenuto per sbaglio dovevo scartarlo volevo scartarlo tutti i fellaini del mondo devono essere distrutti però io intanto non so quanti pacchetti ho aperto boh non lo so forse io ho già aperto i 13 ne avrò un altro non lo so Hernandez abbiamo Jones e basta nient'altro e quindi anche per questo quinto back opening di questa settimana questo quinto back opening giornaliero è tutto se volete vedere altri back opening tornate domani e anche dopo domani perché ce ne saranno altri due se il video ti è piaciuto metti mi piace iscriviti al mio canale e commenti da bomb777 è tutto ciao a tutti